Ciao da Andrea, il nostro ukulele coach. Nel tutorial di oggi impareremo The Great Pretender, una famosissima ballata rock a terzine. Molte sono le interpretazioni di questo brano, diciamo tra le più conosciute c'è quella dei Platters di Elvis Presley, ma ancora di più quella di Freddie Mercury, molti anni dopo dall'uscita del brano iniziale. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ovviamente troverete il pdf con testo accordi qui sotto in descrizione. Gli accordi che compongono il brano sono solo sei e tutti abbastanza facili, quindi vedete che non c'è nessun barré, la maggior parte di voi già li conosce, quindi abbiamo il Do, il Do settimo, il Fa, Sol, Sol settimo e Mi settimo. Poi brevemente vi li farò rivedere da vicino per chi non li conosce. Comunque passiamo allo strumming, cioè a come andrà fatto lo strumming. Come ho detto all'inizio è a terzine, diciamo una ballata a terzine, quindi pam 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 pam. Questo diciamo è il tempo portante di tutto il brano e praticamente per tutto il brano si farà altro che questo. Due modi per fare le terzine. Il primo è questo, che non è quello scritto qua, è tutto con i colpi in giù, quindi un due tre, un due tre, un due tre, un due tre. E già ve la potete cavare così, le due terzine che vedete qui le potete fare così, pam 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 pam, un due tre, un due tre, un due tre, un due tre. Oppure se volete lavorare un po' di più c'è questo modo, con la prima terzina, cioè la prima terzina, tutte e due le terzine andranno fatte in questo modo, colpo in giù, colpo in su, colpo in giù e poi di nuovo colpo in giù, su e giù. Questo perché farlo in questo modo darà una sorta di rimbalzo e poi vi farò sentire come. L'unica differenza fondamentale tra le due terzine, fondamentale ma cambia di pochissimo a dire il vero, è giusto per dare un po' più di trasporto al brano, che la prima terzina andrà data con un accento più forte e la seconda con un accento più debole. Mi spiego meglio. Ogni terzina va fatta con la prima nota che fate con l'accento, quindi pam 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 pam. Solo che la prima terzina avrà un accento forte e la seconda terzina avrà un accento medio forte. Infatti in musica, nelle partiture musicali, quando trovate questo simbolo vuol dire accento su questa nota. Quando trovate questo simbolo vuol dire un mezzo accento, cioè non un accento fortissimo ma medio, e così via. E gli altri colpi tutti leggeri. Andiamo a sentire come deve suonare. Vediamo brevemente gli accordi. Quindi abbiamo il Do, quindi sulla prima corda al terzo tasto e le altre libere. Do settimo, con l'indice sulla prima corda al primo tasto. Poi il Fa, quindi prima corda libera, seconda corda con l'indice sul primo tasto con l'indice sul primo tasto, terza corda libera, quarta corda sul secondo tasto con il medio. Abbiamo il Fa. Poi il Sol, quindi prima corda con il medio al secondo tasto, seconda corda al terzo tasto con l'anulare, terza corda secondo tasto con l'indice, Sol. Poi il Sol settimo, quindi andrà fatto così. Quindi sempre prima corda secondo tasto ma con l'anulare, poi con l'indice sulla seconda corda al primo tasto, poi con il medio sulla terza corda al secondo tasto, quarta libera, Sol settimo e poi il Mi settimo lo potete fare direttamente così, basta spostare l'indice qui. Quindi come andrà fatto il Mi settimo, prima corda al secondo tasto con l'anulare, seconda corda libera, terza corda al secondo tasto con il medio, quarta corda primo tasto con l'indice, Mi settimo. Vediamo lo strumming, quindi il primo, quello più facile diciamo è, sentite che all'inizio della terzina do l'accento, quindi forte, debole, debole, forte, debole, debole, 100, 100, 100, questo tutto con i colpi in giù lo potete fare così. L'altro modo sarebbe giù, su, giù, 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 su, giù, quello un po' più laborioso, diciamo, pam 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 giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su. Se potete date un accento all'inizio della prima terzina forte e all'inizio della seconda terzina medio forte, ma tutto sommato se date comunque un accento iniziale alla prima terzina e poi lo date uguale anche alla seconda è lo stesso, l'importante è far sentire la terzina che ha questa cadenza. Un due tre, un due tre, un due tre, un due tre, l'accento va sull'uno ed è tutto qui. Vediamo la struttura del brano, diciamo che per fare questo brano mi sono rifatto la versione dei platters e a quella di Freddie Mercury mescolate tra loro e se vogliamo anche un po' semplificate. Comunque c'è un intro strumentale fatto di tre accordi e poi parte il brano vero e proprio cantato. Nel brano cantato abbiamo due strofe praticamente uguali tra loro, cambia solo il testo ma il giro d'accordo è uguale, poi c'è un ponte e poi c'è quello che io chiamo il ritornello, anche se è molto simile alla strofa alla quale viene aggiunta però una frase e un accordo, quindi un accordo è una frasetta musicale con il suo giro di accordi che va diciamo ad arricchire un po' quella che sarebbe la strofa. Poi abbiamo di nuovo il ponte e poi di nuovo questo che io ho chiamato ritornello e lì il brano finisce. Vediamo l'intro, tre accordi, do, fa e sol settimo fatti a terzine, quindi le potete fare un due tre, un due tre, un due tre, un due tre, con tutti i colpi in giù, oppure un due tre, 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 un due tre. Mi raccomando di far sentire l'accento nelle terzine, per far sentire l'accento sull'inizio di ogni terzina è sufficiente stare leggeri sugli altri colpi, quindi farò un due tre, un due tre, un due tre, oppure un due tre, un due tre. Quindi sui tre accordi vi faccio sentire come deve suonare. E qui mettiamo lo stop, perché qua parte la voce e poi di nuovo gli accordi. Quindi faremo do, fa, sol settimo, ve lo conto a terzine, un due tre, 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 un. E sull'ultimo, un, anziché faremo la terzina, faremo uno e poi subito stop. Quindi... Vediamo ora le strofe. Partirà prima la voce, quindi farà o, yes, e qua parte il do. Se avete il PDF con testo accordi alla mano vedrete già che o, yes, su o, yes, parte il primo do. Diciamo che le due strofe sono esattamente uguali tra loro come giro d'accordi, eccetto che sul finale della prima c'è un accordo, c'è un sol settimo di passaggio sul quale c'è scritto stop, che in realtà è stop con la ritmica, ma andrà tenuto la coda dell'accordo, perché ci serve per riprendere la strofa. E quindi, diciamo, la differenza tra le due strofe, oltre che al testo, ma a livello di accordi, è solo l'accordo finale, che sulla prima finirà con sol settimo e sulla seconda finirà con do settimo. Il do settimo della seconda ci servirà per legarci al ponte. Comunque vi faccio sentire più o meno come deve suonare. Quindi, prima strofa. O, yes, do, sol, do, do settimo. Fa, fa, do, do settimo. Fa, sol, do, fa, do, sol, do settimo. E qua riprende l'altro, l'altra strofa. E quindi, o, yes, sol, do, do settimo. Fa, 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 do, do settimo. Fa, sol, do, do settimo. E qua, su questo do settimo, gli facciamo un leggero crescendo proprio di intensità per passare al ponte. Passiamo al ponte con gli accordi fa, do, fa, do, sol e sol settimo. Diciamo qua, la parte difficile è farli suonare in un certo modo, cioè dovremo agire sulla dinamica. Ci sono due modi per poterlo fare. Il primo è proprio esagerando i colpi, gli accenti forti e quelli, i colpi leggeri che dovremmo dare. Quindi andrà fatto così. Parto con il Fa. Quindi faremo sulla prima terzina un accento forte e poi staremo leggeri sugli altri due colpi e poi leggeri anche sulla terzina successiva, anche sull'accento. Qui quasi non lo faremo sentire. Faremo sentire l'accento di una terzina e poi staremo leggeri sugli altri colpi e la terzina successiva. Praticamente sarà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tutto così, quindi... Pam 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 pam. Questo è un modo per farlo risaltare. L'altro modo sarebbe invece quello di fare con gli accordi stoppati. scegliete quali dei due si addice di più a voi, oppure mescolateli anche tutti e due, quello che riuscite a fare. Quindi dovrete fare così, praticamente faccio una terzina con gli accordi aperti, e la seconda terzina con le corde stoppate, quindi qua ci vuole un po' di dimestichezza con lo stoppare gli accordi, ci ho fatto un video dedicato. Comunque se non riuscite fate... Quindi ora vi faccio sentire come dovrà suonare questo ponte. Quindi ve lo canto, si parte con il Fa... E qua sono sul G7, e anche qui lascio la coda. Come avete sentito sul primo O sono ancora sul G, come dice Conceal, e poi c'è... Sul secondo O sono sul G7. Lascio la coda, quindi interrompo la ritmica, ma lascio l'accordo che suoni, e poi parto con il ritornello. Il ritornello praticamente inizia uguale alla strofa, quindi Do, Sol, Do, Do7, Fa, Fa, Do, Do7, Fa, Sol, Do, Fa, Fa, e qui cambia perché mettiamo un Mi7, e poi torna ancora a Do, Do, Sol, Do, Do7, qui un Do7 perché torna di nuovo il ponte. In questo caso il ponte è praticamente uguale all'altro ponte, eccetto che sul finale, anche se gli accordi sono uguali, ma lascerò un po' più di coda sul G7, e diciamo qua è abbastanza interpretativa, poi sentirete come la interpreto io, ma qua lasciate fondamentalmente l'accordo, lo battete per un po', poi lasciate la coda perché dovete ripartire con... con l'ultimo ritornello. L'ultimo ritornello è praticamente uguale all'altro, eccetto che dopo che avete fatto l'ultimo Do, anziché andare sul Do7, andrete sul Fa e poi sul Do. Il finale vero e proprio andrà fatto in questo modo, cioè prendendo l'ultima riga del ritornello dove dice... lo faccio con gli accordi appoggiati, cioè a quel punto lì sulla penultima frase della canzone faccio gli accordi appoggiati, quindi... Pretending that you're still, still around... e qua c'è adesso l'ultima frase che va sul Fa... che va sul Do. E ora ve la canto, se la faccio troppo veloce voi fatela un po' più lenta... Oh, yes, I'm the great pretender... Pretending that I'm doing well... My need is such, I pretend too much... I'm lonely, but no one can tell... Oh, yes, I'm the great pretender... I dream in the world of my own... I play the game... I play the game... But to my real shame... You left me to grieve all alone... To me, is this feeling of make... Believe... To me, is this feeling of make... Believe... To me, when I feel... What my heart can conceive... Oh, 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 yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown, I seem to be, but I'm not, you see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still sitting around, to read is this feeling of make-believe, to read when I feel what my heart can conceive. Oh, 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 yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown, I seem to be, but I'm not, you see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still, still around, that you're still around. Sì, lo so, siamo lontani anni luce da come l'ha interpretata Freddie Mercury, dai, fatevi una risata quando mi sentite cantare. Comunque, magari guardate invece come l'ho suonata e prendete spunto da come faccio gli accordi, dai passaggi, dagli stop, queste cose qua. Vi aspetto al prossimo tutorial, mettete un bel like se avete trovato utile questo video e visitate il mio sito che ve lo lascio qua sotto in descrizione, se vi va gli date un'occhiata. Ciao e alla prossima!